L'imperatore, ospite dall'almiraglio Otham, partenza per l'Inghilterra. L'imperatore comanda le esercitazioni ai soldati inglesi. L'imperatore si ricca sulle navi dell'almiraglio Otham e io l'accompagno. Lì vengono resti tutti gli onori, tranne la salve di agilieria. Abbiamo visitato ogni angolo della navi e l'abbiamo trovata in ordine ed è una tenuta ammirabile. L'almiraglio Otham ha mostrato tutta l'eleganza e il carbo proprio di un uomo nobile ed educato. Siamo tornati sul bello affonte verso l'una e siamo sapati per l'Inghilterra. 12 giorni dopo la nostra partenza da Parigi, il mari è quasi calmo. Il mattino l'imperatore, uscendo per andare a bordo dell'almiraglio Otham, si è fermato di colpo su ponti del Belvoir. Fonte davanti ai soldati scerrati per rendirgli gli onori e ha comandato loro diversi esercizi. Gli ha fatto incrociare le bionette e, poiché quest'ultimo esercizio non veniva eseguito con lo slancio francese, è avanzato vivacemente in mezzo ai soldati scoltando le bionette con le mani ed è andato nell'ultima fila e prendere un fucile con il quale ha mostrato egli stesso l'esercizio in stile francese. Allora, un'improvvisa emozione è comparsa sui volti dei soldati, degli ufficiali e di tutti i presenti per lo stupore di prendere l'imperatore in mezzo alle bionette inglese, alcune delle quali che tottevano il petto. Questo episodio fece profonde pressione al nostro ritorno dell'almiraglio. Potem ci rivolgere qualche domanda indiretta, ci chiedevano se si comportava spesso così con i propri soldati e non mancavano di riprivedere davanti alla sua sicurezza. Nessuno di loro era abituato a un sovrano chiedava gli ordini e spiegava a gli e seguiva. Capimmo bene in quel momento che nessuno di loro aveva un'idea precisa di chi avevano davanti egli oggi, minchè egli fosse stato per vent'anni l'oggetto costante di tutta la loro attenzione, di tutti i loro sforzi, di tutti i loro discorsi. La calma del mare continua. Procediamo lentamente, tuttavia perdiamo di vista la terra. Mercoledì Il vento diventa molto forte, ma non è favorevole. Navighiamo alla velocità di circa 9 noti. Ascendente dall'imperatore sugli inglesi del Belrofonte, riassunto dall'imperatore, dai giovedì vinti al sabato. Continuiamo la rotta con vieti poco favorevoli. L'imperatore non è stato molto tra i suoi più accanetti nemici, che erano stati costantemente nutriti di ceri assordi e irritanti, senza esercitare su di essi tutto l'ascendente della gloria. E il capitano gli ufficiari e gli ufficiari adottarono presto le abitudini del suo seguito, che gli stessi riguardi lo stesso linguaggio, lo stesso rispetto. Il capitano lo chiama soltanto se la vostra maestà, se a Bari, sulle ponti tutti, si toccano il capo e restano così finché si trattiamo le cose che in un primo momento non era avvenuto, si entra nella sua cavina soltanto introdotti dai suoi ufficiari alla sua tavola, stanno soltanto quelli delle navi che gli ha evitato. Insomma, a bordo del Belrofonte, Napoleone era sempre l'imperatore. Compariva spesso sul ponte e conservava con alcuni di noi o con il personale della nave, tra tutti quelli che l'avevano seguito, io ero forse quello che egli conosceva di me, no? Si è visto prima che nonostante gli incarichi avuti presso di lui scarsi erano state le mie relazioni personali. Dopo la mia partenza di Parigi mi aveva appena qualche volta rivolto la parola, ma durante la navigazione ha cominciato molto spesso a intrattenersi con me. Le occasioni e le circostanze mi erano favorevoli. Conoscevo a sufficienza l'inglese per dargli sciaricamente su quanto si diceva intorno a noi. Ero stato marinero e fornivo l'imperatore tutte le spiegazioni che desiderava saperi sulle manovre della nave, sulle condizioni dei venti e domani. Ero stato dieci anni in Inglaterra e mi ero fatto un'idea precisa sulle leggi, sui costumi, sulle usi del paese. Potevo rispondere con estate a tutte le domande che l'imperatore si degnava di rivolgermi a questo proposito. Infine il mio Atlantistorico mi aveva fornito una serie di epoche, di date e di parigioni sui quali ero sempre pronto. Contemporaneamente approfittavo dell'ossio durante le navigazioni per compilare il sedente riassunto delle nostre situazioni, a roccia fuori dei motivi che avevano imposto le decisioni dell'imperatore. Sono ormai in possesso dei dati esatti e autentici. Eccovi. Grazie.